Musica Borse irriverenti, divertenti che le puoi portare in qualsiasi momento. Sono quasi un gioiello, sono funzionale per una serata ma se no si possono abbinare alle borse più grandi come charms oppure portarle proprio come collane, come parte dell'abbigliamento. Ovviamente non ci puoi mettere di tutto però le cose che più ti servono sono lì a portata di mano. Musica Ormai la borsa non è più per necessità ma è il finale di un outfit. Piccole, preziose, da giocare mentre si cammina. È diventata quasi un'arma di sensualità la borsa perché come la metti, come la porti ti aiuta a sedurre. Musica La cosa bella è che la chiusura è stata disegnata appunto da me e ricorda proprio i piercing e la chiusura della bestseller di Koliak che è la derby Fernanda che è quella con i piercing con le perle. Quindi siamo partiti da lì per creare questa chiusura che diventerà un po' il marchio Koliak per quanto riguarda le borse. Musica Musica